Dal 21 al 25 marzo il pattinaggio di figura vivrà a nuovi fasti con i mondiali, che per quest'anno dopo 8 anni torneranno in Italia, si svolgeranno al forum di Assago, casa, dell'Olimpia Milano di pallacanestro e di tanti concerti e decenti di rilievo. Video Alina Zagitova campionessa olimpica a 15 anni, un libero sublime ci sarà lo squadrone azzurro, che a Pyeongchang si è giocato fino all'ultimo la possibilità di andare a medaglia nel team event, a fare gli onori di casa per questo importantissimo appuntamento. Video Carolina Costner non sbaglia, nel team event seconda solo alle spalle della Medvedeva il programma e le gare in tv e Eurosport, come sempre, prenderà attivamente parte all'evento trasmettendo le gare in diretta sui suoi canali. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Eurosport Player. Questo il programma con i relativi passaggi televisivi. Data gara orario tv 21 marzo short program donne 11 meno un quarto a 16 e 45 differita Eurosport 1 17 e 15 a 18 e 40 cerimonia d'apertura 17 e 30 a 18 Eurosport player short program coppie 18 e 20 a 23 diretta Eurosport 2 dalle 20 alle 23 e 22 marzo short program uomini 10 a 15 e 45 differita Eurosport 2 dalle 15 e 30 alle 17 free program coppie 18 e 55 a 21 e 55 diretta Eurosport 2 dalle 19 alle 21 e 55 e 25 marzo short dance 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 danza Eurosport 3 dalle 15 e 15 Free dance 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 Danza 15 e 20 a 18 e 35 diretta Eurosport 2 dalle 15 e 15 alle 19 e 25 marzo Gala 14 e 30 a 17 differita Eurosport 2 dalle 20 e 15 alle 22 e 10 Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni Videomarchei ottariche perfetti, 216.59 di pura emozione ed è il record italiano No.